Con un'imitazione molto particolare, infatti imito il signor Corrado all'età di 93 anni. Cosa è bella? Scusa, scusa. Scusa. No, io comunque sia l'imitazione io la ringrazio, perché ancora mi ha dato qualche annetto, insomma, meno male. Ma certo, magari avremo, perché ci sarai anche tu, mi auguro se... Ancora 50 anni di carriera. Eh, magari, magari, saremo con la dentiera, tutte queste cose qui, e tu no, non te la metti la dentiera perché hai paura che ti sfuga. Ciao ragazzi, dal simpaticone nunche argillone di Corrado. Maestro non rida, non rida, prega Dio che ho questa età. Dunque, io adesso vi devo presentare un personaggio. Io, infatti, devo imitare Riccardo Cocciante, all'età di tre mesi. Infatti, lui aveva inciso e cantava Margherita più o meno così, per mille corrige. La mia vita è un'altra, non rida, non rida, non rida, non rida, non rida. Tìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì un personaggio, questo personaggio si chiama Toi Cemi, sono tre imitazioni in una, ovvero To sta per Totò, C sta per Celentano e Mi sta per Minà, tre imitazioni in una, Totò così, con la faccia Celentano e con la voce Minà. E credo che questo sia tutto e grazie e io vi saluto e anche perché dico che è molto difficile fare questa imitazione. Grazie ragazzi, buona chiede ragazzi! Devo dire che ne abbiamo sentiti tanti, però lei ha avuto così, un modo di presentare l'imitazione un po' diverso dal solito, quindi io vi congratulo con lei perché ha presentato un numeretto veramente particolare e originale. Vabbè, speriamo che tutto vada per il meglio fino alla fine, d'accordo? Anzi, l'accompagno io e mi faccia vivere tanti anni ancora!